Benvenuti ai vostri oroscopi di oggi. Che siate alla ricerca di amore, successo o semplicemente un po' di ispirazione, siamo qui per fornirvi le previsioni astrali più accurate. Preparatevi a esplorare il vostro destino con noi mentre ci immergiamo nel meraviglioso mondo dell'astrologia. L'oroscopo del segno Ariete. Vi trovate in un momento estremamente positivo e le vostre prospettive continuano a migliorare costantemente. Esperienze gratificanti vi attendono, soprattutto nel contesto familiare. Se non avete ancora pianificato nulla, è il momento di agire. Prendete l'iniziativa e organizzate qualcosa di rilassante con il vostro partner. I single avranno fortuna in amore, potreste avvicinarvi a una persona speciale, magari qualcuno che già conoscete. Anche coloro che sono alle prese con questioni finanziarie vedranno miglioramenti. Buone notizie sono in arrivo anche per chi ha debiti da saldare. Avete in mente molti progetti intriganti, ma non dimenticate di dedicare attenzione a coloro che vi sono cari. Affrontate tranquillamente la giornata lavorativa, gestendo la routine con serenità. I nati sotto il segno dell'Ariete dovrebbero prestare attenzione alla loro alimentazione per evitare sensazioni di appesantimento. Le dinamiche familiari potrebbero causare stress. Cercate di mantenere la calma. La vera forza risiede nell'essere sicuri di sé senza sentirsi in competizione con chi è più debole. L'oroscopo del segno toro. Stat vivendo un legame appassionato e gratificante. La vostra relazione di coppia è perfetta e promette dolcezza, tenerezza e una passione intensa, che rinforza e arricchisce il legame. Per i single, la fortuna è dalla vostra parte e potreste fare incontri significativi. Il vostro intuito e le vostre capacità decisionali saranno particolarmente affinate, rendendovi pronti per un nuovo amore. Grazie all'influenza positiva di Venere, potreste ricevere informazioni utili per incrementare il vostro reddito. Questo sarà solo uno dei tanti eventi meravigliosi che vi attendono. Dalle delusioni amorose è importante trarre insegnamenti per evitare gli stessi errori in futuro. Gestite con oculatezza i vostri guadagni, evitando spese superflue e valutando con attenzione eventuali investimenti futuri. Sul fronte del benessere, monitorate la pressione sanguigna e cercate di mantenere un livello di attività fisica adeguato. Potreste sentire il desiderio di allontanarvi da alcuni membri della famiglia che vi creano disagi. Lasciate andare ciò che non vi serve. L'oroscopo del segno gemelli. Con l'ingresso della Luna nel vostro settore, le coppie avranno l'opportunità di trovare la giusta direzione da seguire insieme. Potreste iniziare a realizzare un sogno o raggiungere un obiettivo importante. Per i single, la Luna sarà un prezioso alleato che vi fornirà energia extra in diversi ambiti della vostra vita. Vi sentirete in forma, padroni della situazione e capaci di gestire ogni cosa. Sul fronte lavorativo, la vostra eleganza, umorismo e gentilezza saranno le vostre armi contro eventuali colleghi intimidatori. Dimostrerete la vostra forza di carattere e li farete sentire fieri di voi. Nel campo amoroso, non fate compromessi sull'autenticità dei sentimenti in gioco. Fate valere le vostre decisioni in ambito lavorativo, anche se in modo diplomatico, evidenziando la vostra capacità di comunicare in modo efficace senza alzare troppo la voce. Prestate attenzione alla vostra salute e cercate di mantenere un equilibrio fisico e mentale. Potreste essere facilmente irritabili in questo periodo, quindi cercate di evitare discussioni in famiglia. Pensate prima di parlare per evitare fraintendimenti. L'oroscopo del segno cancro. Le stelle sorridono a molti nativi, agevolando la realizzazione di progetti importanti con i partner. Sostenuti dall'astro dell'autosufficienza, troverete il coraggio di trascorrere momenti sereni con le persone a voi care. I single, di solito amanti delle chiacchiere, saranno pronti per l'azione questa volta. Trovare qualcuno che vi affascina con le sue parole potrebbe farvi volare alto emotivamente. Sul fronte lavorativo, avrete l'opportunità di perseguire i vostri sogni e iniziare a realizzarli. Il momento di agire è adesso. Potrebbe non essere semplice trovare la persona giusta all'istante. Se il vostro lavoro ha attraversato difficoltà in passato, concentratevi sul superare le sfide con fiducia e determinazione. Prestate attenzione al vostro peso e adottate abitudini alimentari più salutari se necessario. L'amore familiare è un punto di forza, anche se a volte può sembrare opprimente. Ricordate che tutto ciò che proviene dalla vostra famiglia è motivato dall'amore autentico. A volte l'amore non ha bisogno di spiegazioni. L'oroscopo del segno leone. In questo giorno, è importante dedicare del tempo per approfondire le situazioni che vi coinvolgono. Nelle relazioni, la sincerità e la trasparenza sono fondamentali per mantenere legami sani e duraturi. Esprimere apertamente le proprie preoccupazioni è essenziale per instaurare una comunicazione profonda con il partner. I single potrebbero ricevere critiche, ma è importante essere aperti al feedback degli altri e mantenere l'umiltà. Sul fronte lavorativo, non esitate a chiedere supporto ai vostri colleghi, se necessario. Confiare su chi lavora con voi è un segno di forza, non di debolezza. Se le cose non vanno bene in amore, prendetevi del tempo per ascoltare voi stessi e gli altri. Sul versante professionale, il lavoro di squadra diventa essenziale e con il sostegno delle stelle potrete mostrare una grande collaborazione. La vostra capacità di adattamento ai ritmi dei colleghi sarà un grande vantaggio. Per quanto riguarda il benessere, sia in estate che in inverno, prestate attenzione alle vostre ossa, denti, ma anche stomaco e fegato. Eventuali incomprensioni in famiglia sono normali e risolvibili, quindi mantenete la calma. La vera bellezza risiede negli occhi di chi sa apprezzare. L'oroscopo del segno vergine. Coltivate un profondo apprezzamento per il vostro partner. Mostrare affetto rafforzerà il legame tra voi e la vostra controparte, dando vita a una relazione appagante e duratura. Per i single, una nuova conoscenza potrebbe portare sorprese inaspettate. Se si tratta solo di una passione momentanea, solo il tempo potrà rivelarlo. Nel frattempo, godetevi il momento e lasciate che le emozioni vi guidino. Se state intraprendendo la via dell'autoimprenditorialità, le stelle vi sosterranno fornendovi i talenti necessari. Seguendo le opportunità che si presenteranno, potrete raggiungere un successo al di là delle vostre aspettative. In amore, evitate di aggrapparvi troppo a questioni di principio. Sul fronte lavorativo, potreste incontrare colleghi di cui diffidare, quindi state attenti. Per quanto riguarda il benessere, se c'è un improvviso cambiamento di temperatura, potreste sentire fastidi a livello respiratorio, bronchi e gola potrebbero risentirne. Anche la bocca e le gengive potrebbero essere sensibili, quindi prendete cura di loro. In famiglia, potreste confrontarvi con genitori e suoceri molto esigenti, ma con i fratelli potrete finalmente dialogare liberamente, superando gelosie e vecchie rivalità. L'oroscopo del segno bilancia. La seconda metà della settimana si preannuncia come un periodo eccezionale, perfetto per trarre vantaggio da tutti gli aspetti della vita quotidiana. La comprensione reciproca con il partner sarà agevolata dall'atmosfera positiva delle stelle, promettendo una giornata idilliaca in cui tutto sembra perfetto. I single avranno la fortuna dalla loro parte in ogni situazione. È il momento di rilassarsi e smettere di cercare la perfezione in ogni istante. Sul fronte lavorativo, siete pronti a investire anima e corpo in un progetto redditizio che vi porterà grandi soddisfazioni. In una relazione di coppia, è normale avere discussioni. L'importante è cercare di placare eventuali tensioni. Mostrate impegno nel vostro percorso professionale, la vostra comunicatività potrebbe essere un grande punto di forza. Prendete cura della vostra salute per evitare stanchezza e affaticamento. Potreste sentire una certa pressione da parte della famiglia per risolvere alcune questioni, quindi cercate di mantenere la calma e respirare profondamente. La fiducia è importante, ma è essenziale anche mantenere un certo grado di vigilanza. L'oroscopo del segno scorpione. Potreste sentire gli effetti negativi di un periodo difficile. Molte persone saranno influenzate da influenze stellari avverse, ma non è il momento di disperare. Potrebbero sorgere dubbi nei confronti del partner e pensieri negativi potrebbero affiorare. È importante cercare di gestire la gelosia e evitare reazioni irrazionali, per evitare incomprensioni con chi vi circonda. I single potrebbero trovarsi alle prese con decisioni difficili, ma è essenziale mantenere la calma e chiarire eventuali malintesi. Sul fronte lavorativo, potreste sentirvi stanchi a causa dell'impegno profuso in ogni attività. Se ci sono state tensioni in amore negli ultimi giorni, è ora di lasciarle andare e guardare avanti. Questo periodo favorevole alla creatività potrebbe portare a dei cambiamenti positivi, quindi mantenete alta la vostra motivazione. Per quanto riguarda il benessere, se vi sentite stanchi fisicamente e mentalmente, è importante prendervi cura di voi stessi. Potreste ricevere dei consigli da parte della famiglia riguardo al risparmio, cercate di accoglierli con serenità. Non permettete alla negatività di offuscare la vostra visione del futuro. L'oroscopo del segno sagittario. L'oroscopo del 10 maggio prevede un periodo abbastanza positivo che vi permetterà di evitare delusioni, anche se non mancheranno gli ostacoli lungo il cammino. Le esperienze che vivrete vi renderanno più forti e autentici, portando alla luce la vera natura delle persone intorno a voi. Nel campo romantico, dedicate tempo al vostro partner, scoprendo nuovi interessi e trascorrendo momenti di intimità insieme per rinnovare l'armonia della relazione. I single non dovrebbero preoccuparsi se si sentono bloccati in una situazione insoddisfacente. La loro grinta e carisma attireranno chi li apprezza. Sul fronte lavorativo, potrebbe essere utile fare una valutazione della situazione attuale. Nel campo dell'amore, i pianeti non si accontentano di illusioni superficiali e iniziano un processo di riconciliazione, che coinvolge anche voi stessi. Nuove opportunità lavorative si presentano, confermando la fase di crescita della vostra carriera. In questo momento, comprendete appieno il concetto scientifico che nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Per quanto riguarda la salute, potreste risentire di eccessi o di troppo stress legato al lavoro. Un po' di riposo potrebbe farvi bene. La famiglia è importante, ma è fondamentale far rispettare i propri limiti e decisioni. L'oroscopo del segno capricorno. L'oroscopo prevede un periodo non particolarmente favorevole per la vostra fortuna il 10 maggio, caratterizzato da una fase di stasi influenzata da tre stelle. In amore, sarà importante affrontare i problemi con determinazione e trovare soluzioni efficaci, anche se le strategie precedenti non hanno dato i risultati sperati. I single sono in un momento di equilibrio, in grado di distinguere tra semplici conoscenze e affetti significativi, concentrandosi solo su chi merita davvero la loro attenzione. Mantenete questa consapevolezza. Sul fronte lavorativo, nonostante possano esserci sfide apparentemente insormontabili, le stelle promettono progressi. Nel campo amoroso, potreste sentire la mancanza di slancio, provate a cambiare approccio per ravvivare la situazione. Sul versante lavorativo, è possibile un lieve miglioramento. La salute è prioritaria, quindi cercate di ritagliare del tempo per il vostro benessere e evitare eccessive stanchezze. Evitate di giudicare troppo severamente la famiglia e gli amici per evitare tensioni e conflitti. L'oroscopo del segno acquario. L'oroscopo suggerisce che potreste sentirvi più riflessivi e riservati del solito. Le vostre mattine saranno tranquille, ma sarà importante evitare che piccoli conflitti si trasformino in situazioni più complesse. Potreste sentire il desiderio di rinnovare le promesse d'amore del passato, cercando di correggere eventuali comportamenti eccessivi. I single sono invitati a pianificare con attenzione le loro mosse, indipendentemente dalle circostanze, ricordando che la felicità autentica spesso è più vicina di quanto si pensi. Sul fronte lavorativo, concentratevi sul prevenire eventuali difficoltà e focalizzate la vostra attenzione per trovare soluzioni efficaci. In amore, i pianeti potrebbero non essere particolarmente favorevoli, ma non perdete la speranza e cercate di gestire eventuali discussioni con serenità. Tra i vostri colleghi potrebbero esserci comportamenti non appropriati, ma fortunatamente l'equilibrio planetario ristabilirà una situazione che sembrava sbilanciata a vostro svantaggio. Fate attenzione agli sport estremi per evitare infortuni, soprattutto a gambe e caviglie. Affrontate con prudenza le questioni familiari che richiedono metodo, sapendo che potrebbero sorgere conflitti. L'oroscopo del segno pesci. L'oroscopo del 10 maggio promette l'arrivo di nuove opportunità che renderanno la giornata perfetta per voi. Vi sentirete più convincenti del solito e stimolati a eccellere, sfruttando al meglio le opportunità che si presenteranno. In amore, sorprendete il vostro partner con gesti inaspettati e non esitate a prendere l'iniziativa per rinnovare la passione nella relazione. Anche gli imprevisti potranno rendere il legame più interessante e profondo. Per i single, è il momento ideale per dedicarsi alla cura di sé e della propria salute. Sul fronte lavorativo, sarete in grado di esprimere la vostra individualità con facilità, cogliendo le sfide come opportunità per crescere. Sia da single che in coppia, potreste sentirvi soli per gran parte della giornata. Il problema potrebbe non essere la presenza fisica, ma piuttosto la mancanza di complicità e condivisione che avvertite. È un periodo in cui è importante essere prudenti e concentrati sui vostri obiettivi. Potreste avvertire un lieve malessere, probabilmente dovuto allo stress accumulato, ma niente di insormontabile. Le questioni familiari potrebbero assorbire tempo ed energia, generando conflitti e richiedendo maturità per affrontarle.